Il comune di Forio con una delibera di giunta municipale ha manifestato la propria disponibilità e di fatto ha dato incomodato all'ASL Napoli 2, il palazzetto dello sport, per la realizzazione di un hub vaccinale, di un centro vaccinale. Mi sembra giusto che i comuni concorano concretamente a questo momento fondamentale per la ripresa e per la ripartenza della nostra economia, ma soprattutto per mettere in sicurezza la nostra gente. Qualche dubbio ho sull'opportunità di un hub vaccinale in un'area, purtroppo quella del palazzetto dello sport, che è proprio dentro e inglobata in un'area di gestione dei rifiuti o tra tutte le criticità per quanto riguarda il raggiungimento di quel sito, oltre al dato della altissima densità abitativa. La delibera però non recita di quante postazioni vaccinali, in effetti non puntualizza il fabbisogno da parte dell'ASL e ritenevo e ritengo che ci potevano essere, ci possono e ci devono essere altre strutture e altri siti in giro per l'isola, sicuramente meno complessi e complicati e che comunque non prevarichano altri diritti. Pensavo al palazzetto dello sport di Ischia, al centro polifunzionale di Fontana, alla palestra scolastica poi vicino lì all'ospedale, che mette anche in collegamento laddove ci dovesse essere qualche criticità per qualche bersaglio della campagna vaccinale ed invece si è deciso per il palazzetto dello sport. Di graverità il funzionario responsabile mi aveva preventivamente avvertito, però altre informazioni sui tempi e sui modi di svolgimento della campagna vaccinale in quel sito, da quando si parte, altre notizie al momento non ce ne sono. E' in qualche modo non bello parlare di altro, nel senso ho sempre detto che rispetto alle attività in corso al palazzetto, dello specifico il campionato di serie C-Gold di pallaccanestro, sono convinto che la campagna vaccinale rappresenta un momento sicuramente più importante di qualsiasi altra attività, però un diverso garbo, una diversa attenzione in un sito dove proprio da poco è stato fatto un importante investimento nella realizzazione della nuova pavimentazione ritengo ci poteva essere. Però se non ci sono altre soluzioni a quella del palazzetto dello sport, non so se per un dispetto non si è voluta cercare altra soluzione anche nei cinema, nello stesso patrimonio, l'indisponibilità dei vari comuni o se veramente non c'è un'altra soluzione mi sembra giusto che la pallaccanestra dello sport si faccia da parte per lasciare spazio alla campagna vaccinale. Monitoreremo come evolve, però è stata buona l'occasione per denunciare, tra virgolette, che ancora una volta l'amministrazione locale ha inteso allocare dentro al palazzetto dello sport di gestione dei rifiuti e questo è un fatto grave che contamina in maniera evidente quello che dovrà essere, deve essere, spero che presto tornerà ad essere il tempio della formazione, della crescita, del divertimento dei nostri giovani e dei nostri bambini.